Milicom International Cellular è una società svedese attiva nel settore della telefonia e dei media. L'azienda è riuscita a costruirsi una posizione di vantaggio competitivo all'interno del settore grazie a una strategia controcorrente. Diversamente da molti dei suoi competitor infatti ha deciso di focalizzare la sua attenzione sui paesi dell'America centrale e dell'America meridionale, riuscendo in questo modo ad operare senza la pressione della concorrenza e a realizzare elevate economie di scala. Milicom è presente anche in molti paesi africani, nei quali invece può beneficiare del basso tasso di penetrazione dei servizi di telefonia mobile. Milicom continua a investire in Africa dove, grazie a nuove acquisizioni, cerca di raggiungere economie di scala elevata in modo da migliorare i margini di profitto. La strategia in America Latina, dove la sua presenza è più capillare, invece è quella di allargare il paniere di servizi in modo da farli convergere in un'offerta integrata, cosa che stanno facendo tutti gli operatori del settore sui mercati occidentali. L'azienda sta entrando anche in altri business come i dati, tv, banda larga e servizi finanziari. Questo le permetterà di fare cross-selling sui clienti e dunque di aggiungere altre fonti di reddito. Milicom opera in un settore che risente dell'andamento del ciclo economico. La forte presenza sui mercati emergenti espone i risultati dell'azienda all'instabilità politica di questi paesi e alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il mercato africano inoltre si caratterizza per la presenza di numerosi operatori. Questo fa sì che la forte concorrenza sul prezzo si traduca in bassi margini di profitto. Le previsioni degli analisti per i prossimi 5 anni indicano una crescita media del fatturato del 2,3% e un'espansione del margine operativo di circa 800 punti base. Sulla base di queste ipotesi la stima del fair value è pari a 740 corone svedesi che vale al titolo Milicom International Cellular un rating bonus di 4 stelle.